Buonasera ed eccomi qua diciamo un mini vlog che ho cominciato tardi ma l'ho cominciato allora un attimo solo che ok se vi chiedete io dove sto sto la calata di capodichino siamo andati a penna a prendere un paio di cosette perchè poi dobbiamo andare in pezzeria a mangiarci qualcosa insieme e ora stiamo aspettando il pulmone per andare a benvenuti a sud per farci vedere quello che mangiamo e quello che poi quando arriva a casa vi faccio vedere quello che ho comprato al penna per farvi vedere qualcosa oh li sto a sfidare i miei budino va bene ci vediamo a dopo vediamo il cocico e dopo aspetta ok stanno andando a casa abbiamo finito chi lo so? è 11 e mezza andiamo a casa e andiamo a fare il bebè va bene ragazzi io vi lascio qua e vi mando un bacione a un prossimo video a una prossima lega ciao